Voltiamo pagina, è deceduto all'età di 99 anni Monsignor Amleto Faenza, ospite della Casa del Clero. Era stato ordinato sacerdote nel 1946 e aveva prestato servizio in alcune chiese della città. Dal 1947 al 1964 ha ricoperto la responsabilità di Economo Diocesano. Nel 1953 assunse anche la responsabilità della fabbriceria della Basilica di San Petronio. Nel 1964 divenne abate parroco di San Giuliano fino al 1973 quando si ritirò alla Casa del Clero.